Salve, sono Francesco Lappoconta, candidato a Musile di Piave nel Movimento 5 Stelle. Sono entrato a far parte di questo movimento perché credo nella democrazia da parte dei cittadini. I cittadini devono decidere del loro futuro. Ho deciso di far parte del Movimento 5 Stelle perché voglio pensare di poter avere un futuro anche stando nel mio paese e non dovendo obbligatoriamente emigrare all'estero. Ho deciso di far parte del Movimento 5 Stelle perché voglio essere protagonista del mio futuro. Credo nel metodo del Movimento 5 Stelle perché si basa sull'informazione, la democrazia diretta e la trasparenza. 1. Movimento 5 Stelle uguale più democrazia. Ok, questa la metto così. Allora, ho deciso di far parte del Movimento 5 Stelle perché voglio un futuro migliore per me. Perché sei dentro il Movimento 5 Stelle? Per i miei figli, 3 e 5 anni, Giulia e Giacomo, e per tutti i bambini e i ragazzi che non votano. Sono loro che poi dovranno vivere più a lungo di noi sulla terra e quindi su quello che noi lasceremo. Cambiamo le regole del gioco. Movimento. Sono dentro al Movimento per mettermi in una persona per salvare l'Italia. Movimento. Sono dentro al Movimento perché non potrei esserne fuori. Perché ho capito che il metodo funziona. Informazione per far conoscere tutto quello che succede nel comune. Trasparenza per poterli confrontare su dati certi e democrazia diretta per farlo decidere i cittadini. Per cui, vota Movimento!